Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura la cronaca, beni per oltre 20 milioni di euro sono finiti sotto sequestro tra la Campania e il Lazio. In azione le fiamme gialle. Ancora cronaca, gestivano illecitamente rifiuti. Nell'area flegrea sono state eseguite quattro misure cautelari. L'operazione è della Guardia di Finanza. Torniamo a Torre del Greco per parlare ancora una volta dell'emergenza rifiuti in città. È ora di commissariare il Comune e la voce di Fratelli d'Italia. Un duro atto d'accusa all'amministrazione Palomba. In chiusura, una due giorni di eventi all'insegna della cultura, della musica e dell'enogastronomia a Torre del Greco. In campo il Comune con gli operatori della zona mare. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. Beni per oltre 20 milioni di euro, riconducibili a un commercialista ritenuto vicino al clan camoristico dei Mallardo, sono finiti sotto sequestro tra Campania e Lazio. A termine di indagini coordinate dalla Direzione Ristrettuale Antimafia di Napoli, la Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito tra la Campania e Lazio un provvedimento di sequestro di un ingente patrimonio, stimato in oltre 20 milioni di euro, ricondugibile al noto commercialista Aprovitolo Alfredo, classe 69, e al suo nucleo familiare. I finanziari del nucleo di polizia economico-finanziare a partenopeo hanno sottoposto a sequestro tra le province di Napoli, Caserta, Frosinone e Latina, 89 fabbricati, 10 terreni, 8 quote societarie, 2 autovetture e numerosi rapporti finanziari. A Provitolo a Domenico, padre di Alfredo, indicato da numerosi collaboratori come il tesoriere, veniva considerato un esponente storico del clan Mallardo. Il figlio Alfredo, occupandosi della gestione delle varie attività imprenditoriali, riconducibili al clan, avrebbe assunto l'incarico di commercialista delle varie attività imprenditoriali, soprattutto nei settori immobiliari ed edilizio. Dalle indagini, nel corso degli anni, sarebbero emersi elementi determinanti in merito alla partecipazione di Alfredo a sodalizio criminale gemone nella zona di Giuliano in Campania. Avrebbe anche svolto un ruolo attivo nelle attività estorsive, poste in essere da soggetti affiliati all'organizzazione criminale. A conclusione delle numerose attività investigative eseguite nei confronti del clan Mallardo, è stato condannato a sette anni di reclusione per estorsione dalla quarta sezione penale del Tribunale di Napoli, con sentenza emessa nel settembre 2020. L'operazione si inquadra nell'ambito delle attività abitualmente condotte da parte della Guardia di Finanza, finalizzate all'aggressione dei patrimoni illecitamente accumulate da parte delle organizzazioni criminali. Il servizio moderno ha colpito un imprenditore professionista legato al clan Mallardo, che nel corso del tempo ha avuto il compito di favorire l'inserimento dell'organizzazione criminale nell'ambito dell'imprenditoria lecita. È stato ricostruito completamente il patrimonio dell'imprenditore professionista suo e del suo nucleo familiare e sono stati posti sotto sequestro beni mobili, immobili, disponibilità finanziarie per oltre 20 milioni di euro. Gestione illecita di rifiuti nell'area Flegrea, eseguite quattro misure cautelari. Il gruppo della Guardia di Finanza di Giuliano, a termine di un'indagine coordinata dalla distrezione direttuale antimafia di Napoli, ha eseguito, tra le province di Napoli e Caserta, quattro ordinanze di misure cautelari personali nei confronti di altrettanti soggetti. Raccolti infatti gravi indizi di colpevolezza per traffico illecito di rifiuti speciali non pericolosi, principalmente detriti e macerie provenienti da demolizioni edili, terre e rocce da scavo. A carico degli indagati, oltre al divieto di dimora nel comune di residenza, è stata disposta la misura interdittiva per la durata di 10 mesi del divieto di esercizio dell'attività di scarico o carico di rifiuti e di attività di impresa e di uffici direttivi in società operanti nel settore dei rifiuti. In particolare le fiamme gialle della tenenza di Baia hanno scoperto una struttura criminale familiare dedita alla raccolta, al trasporto e alla gestione di rifiuti speciali provenienti dalla demolizione edile, coinvolto anche nello smaltimento illecito il gestore di un impianto per il trattamento di tale materiale di risulta. Sequestrate infine tre autocarri alla ditta edile di Pozzuoli, Napoli, e le quote societari all'azienda di Castelvolturno, Caserta, che gestisce l'impianto di trattamento rifiuti. E' una questione di sicurezza e salute pubblica. E' tempo di commissariare il comune di Torre del Greco. Non usano mezzi termini Luca Lini e Salvatore Quirino, rispettivamente commissario cittadino e coordinatore del Miglio d'Oro di Fratelli d'Italia sull'emergenza rifiuti in città. Un duro atto d'accusa nei confronti dell'amministrazione Palomba. E di lunedì si ripete il solito copione, con strade invase da rifiuti di ogni genere e cumuli non raccolti. La beffa per i torresi che vivono ormai con mucchi di rifiuti per le strade è che il comune ha già aumentato la Tari e non mi sorprenderebbe se si apprestasse ad alzare ulteriormente le tasse. E' ora che il popolo di Torre ritrovi il suo orgoglio, afferma il coordinatore del Miglio d'Oro di Fratelli d'Italia, Salvatore Quirino. Dopo che si è perso il conto degli assessori che hanno ricoperto l'incarico all'ambiente e dopo lo scaricare le responsabilità soltanto sulla ditta da parte di questa amministrazione comunale, possiamo certificare, oltre al suo fallimento, che siamo in piena emergenza rifiuti a Torre del Greco. Quirino insieme al commissario cittadino Luca Lini incalzano e parlano che ormai è tempo di commissariare il comune. Ormai è una questione di sicurezza e salute pubblica, non possiamo attendere oltre. Annarita Ottaviano, assessore alla risorsa male del comune di Torre del Greco, insieme ai ristoratori della zona mare, l'amministrazione comunale sta organizzando uno o due giorni di eventi, un percorso che vuole essere all'insegna della cultura, della musica, dell'enogastronomia, per un rilancio di questo territorio. Sì, per un rilancio dopo questo periodo di fermo e anche per premiare il coraggio di tutti i ristoratori che hanno riqualificato questa zona. E quindi noi come amministrazione siamo presenti perché non li stiamo a fianco. È arrivata la proposta dagli stessi ristoratori per poter organizzare uno o due giorni dedicata alla zona di Via Calastro e di Corso Garibaldi, proprio per portare all'attenzione della città e per far sì che finalmente ci aspettiamo che dopo questo periodo di Covid possiamo riprenderci da questa crisi economica che ha coinvolto un po' tutto il territorio di Torre del Greco. Dunque saranno coinvolti tutti i ristoratori, le attività commerciali che insistono sulla zona, ma ci saranno anche momenti di intrattenimento e musicali. L'intrattenimento dedicato a quel periodo, a quella zona e quindi saranno coinvolti artisti del territorio, chi vorrà messa a disposizione della nostra comunità che benvenga. Abbiamo pensato di fare qualcosa per Torre, diciamo al rientro delle ferie. Sarà un percorso ovviamente qui nella zona mare, finalmente faremo vedere al territorio torrise e anche fuori dal territorio torrise le nostre bellezze, perché ce le abbiamo, e quindi saranno due giornate, due momenti importanti per promuovere Torre del Greco. È un percorso dove saranno presenti tutti gli operatori lungo la strada, quindi ci saranno bar, ristoranti, artisti, musicanti, cioè non è una passeggiata soltanto per venire a gustare le nostre specialità, ma è un percorso culturale. Ci stiamo strutturando e organizzando in tempi abbastanza stretti, perché lo faremo a fine settembre più o meno, e quindi cercheremo di fare il meglio per poi sviluppare, se fa tutto bene, nei prossimi anni. Quindi musica, cultura, enogastronomia, tutto finalizzato a un rilancio della zona, ma in generale anche del turismo a Torre del Greco. Infatti non a caso è così, perché vorremmo rilanciare la zona, anche dal punto di vista turistico, e quindi voglio dire quale migliore occasione non sperimentarlo in questo momento per dare poi, che ne so, voglio essere ottimista, in futuro un'idea di un attrattore turistico esatto legato appunto a questa festa. Con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro Tg. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete inviare una mail alla nostra redazione all'indirizzo redazionechiocciolatvcity.it o chiamare al numero 340 6561 484. Con questo è veramente tutto, arrivederci a domani. Grazie a tutti i nostri amici.